ne abbiamo portato un'altra casa più 22 già la mmr inizia a riprendere dei connotati più umani diciamo così grazie a tutti ragazzi vi ricordo se volete supportare questa scalata e ricordo che siamo ancora molto molto behind rispetto a nostri compagni siamo attualmente platino 1 34 lp siamo tutti lì siamo tutti la win rate del 67 per cento buona ma non buonissima iniziamo un po a carburare con i nostri pick a mio avviso stiamo draftando meglio stiamo draftando meglio l'obiettivo è questo cazzo di dark che è veramente una macchina da guerra mamma mia che macchina quello la sarà dura da prendere ah poi lui fa sta roba si roba come una scimmia mi sento male per il caldo no mi piace se mi vedo un po nudo no dai lasciami spogliare dai oh sì mica pezzo dal vento mamma mia ma quanto è buona l'acqua oh mamma mia quanto è buona l'acqua allora trindamer vladimir grazie amore cosa dobbiamo giocare finchia che merda prendo trash ma veramente non ho idea cioè non c'è un pick che canta entrambi vladimir chi lo countra karma un po trindamer che lo counta trash un buon pick alistar brown in realtà karma è discreta anche contro trindamer trash è più forte sia contro trindamer che contro master mi sento ragazzi uno sistema è fallito vi dico la verità vorrei chiudere con twitch nel giro di un mesetto solo che non ho messo abbastanza soldi da parte quindi se è riuscito a darmi un milione me ne vado e andrò a insegnare ai bambini quello che sto facendo a zilla è sbagliatissimo saranno entrambi là avevamo perso il game ho messo il primo tottacco quindi ho perso non so quanto di danno cioè noi era morto che bucio di culo fai chile molto fai chile molto mettiti a ridere ciao non so ridere non so come la mia volta vince no ma può essere però sono un po' stereotipati tutti quelli che giochano a draven sono un po' online tossichelli capito che ce la sentono grosso oh merda ma ne fa bene comunque il cartaggio di merda draven è già distato a merda ridi ridi scriverei punto interrogativo in ciattola capito ho capito può essere che invece che di tiltare lo faccio rientrare in game devo farti stare lui non direi poi che mi hai fatto questi grab muoiono penso che tiltano più così mi stai facendo tiltare adesso lo fa guarda lel lel qui ci sta lel che significa lel che sei un po' lella è un lol che ci crede di più ma vaffanculo dovevi scrivere poi un interrogativo no perché la prendo a ridere non è che lo manco di rispetto capito non rido di te rido con te no rido per la situazione capito fermata capito non posso ancora morire scusa mio amore non volevo reagire però diciamo hai insistito un po' lino troppo ma perché tu sei proprio ti vede proprio che giochi support passivi e noi ho passivi ma cosa stai ho giocato dieci parti di file engage vabbè batte esci oh no ma sta qui oh no ma sta qui che dici sia zitta mia ti taglia la faccia scema è merda ma guarda sei carina si vede che sei cresciuto in un contesto subottimale voglio dire una merda no sto scherzando ovviamente qual è il predict polken allora ti dico una cosa forte secondo me io ho avuto un periodo molto sfortunato ok e non ho tiltato tranquillo secondo me quando succederanno gli altri usciranno pazzi vai su rides eh trash contro trinda antipatico quella Q quella E la lanternina sono bravissimo con trash ma non mi dire che so usare la E che non la so usare quello di attacco gli farò uscire l'occhio un attimo prima lo sapevi? più gente lo picchia prima spona l'occhio e basta che gli tira anche un solo auto ieri l'accentor mail vai non mi dire che l'abbiamo speccato sai come funziona che mi si spezza il cuore o meno che brutto datemi la un bel posizionamento fatto che grabbo Gianna e Gianna non muoia mi mette sempre una tristezza abbiamo iniziato ad ingranare non l'ha rubato abbiamo vinto un'altra amici tutto questa partita con zero morti eh zero più 22 siamo a 50 quindi tre partite e siamo in pro oh sto trash oh un'altra Grazie per la visione!